A me l'hanno proposta facendomi incontrare il protagonista reale di questa storia, perché questa è una storia vera. È la storia di Pier Dante Piccioni, che è un primario di Lodi, che ha sbattuto in macchina e ha perso 12 anni di memoria. E appena ho incontrato lui ho detto, vabbè questa cosa qui la devo fare. Cioè è incredibile fare una biografia, interpretare una biografia con un protagonista vivente così. Questo tipo di esperienza proprio sarebbe stata un'esperienza importante. Avere lui vivo ti ha dato una pressione ulteriore, oltre che magari una mano, non lo so. No, pressione zero. La cosa più difficile da immaginarsi è provare a fare su di sé questo esercizio. Com'era il mondo 12 anni fa? Il mondo 12 anni fa era... Un'altra roba. Facebook è del 2003. Sì, sì, sì. E quando lui me l'ha raccontato, ho provato a fare questo esercizio, mi ha fatto degli esempi incredibili.